Allora, cosa mi fa sorridere? Una cosa che mi fa molto sorridere è il mio cane, perché i cani sono spontanei e sono molto buppi e fanno delle facce e dei musi e delle orecchie che sono molto divertenti. E poi ogni tanto, non sempre, mi fanno ridere i miei figli perché dicono un sacco di cazzate, forse hanno preso da me. Grazie.